Oggi alle 10.30 le celebrazioni in onora di Sant'Antonio da Padova sono cominciate con la Santa Messa e la benedizione dei bambini. Il programma nel pomeriggio ha visto la processione della Statua del Santo per alcune delle strade principali del capoluogo Sannita. Il culmine dei festeggiamenti è previsto domani, 13 giugno, con la celebrazione della Santa Messa del mattino fino alle ore 12 e la celebrazione presieduta dal Reverendissimo Stefano Manelli, Ministro Generale dei Francescani dell'Immacolata, saranno inoltre distribuiti i panini benedetti. Il termine dei festeggiamenti in onora di Sant'Antonio da Padova è previsto per domani alle 18 con la solenne e con celebrazione ufficiata dall'Arcivescovo Metropolita Monsignor Andrea Muggione.